Pescatina, primo pesce, un cavetto allo slamato e un altro arrivato, tutti alla stessa taglia. A dopo. Prima pioveva forte, non l'ho rilasciato perché è davvero una bella taglia per Torino. Guardate che bel persico reale. Guardate. E' davvero una bella taglia, sano, bellissimo, bello. Lo rilasciamo, qua dietro, e poi un cavet d'anello appena preso. Voilà, via anche lui. Andiamo avanti, sta andando bene. Ragazzi, un po' di fortuna, guardate che bel pesce. Ci andava proprio. L'ho fatto davvero divertire. Bello, bello. Quel cavet d'anello di Torino, di questo periodo, non fa mai male. Via, andiamo avanti, andiamo avanti. Ragazzi, questo è il po' di Torino. Pesci. Guardate. Guardate che cavedano. Ti ho fatto un'inquadratura che sembra 8 kg adesso. Ciao a tutti, andiamo avanti con la nostra pescata di oggi che sta andando bene. Ciao. 60 anni avanti. Già. Dopo il papà è arrivato il figlio letto, ed eccone un altro. Bello, di bella taglia, divertente. A dopo. Un altro cavetano è arrivato a Guadino, tutti della stessa taglia. Mi fa proprio piacere, guarda. Tanta roba da due o tre etti. Carina. A posto. Lo rilasciamo. Via. Sotto la pioggia, come il mio nome, che è Max il Cinghiale, alto cavetanello. Alto cavetanello, bello, bello. Va bene. Un po' più bello. Wops. A dopo. Ciao. Bene, un altro colpo di fortuna. Guardate che bel cavetano. Oggi non sono riuscito a prendere altro che cavetani. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti. Via. Anche il barbetto è arrivato a Guadino. Piccolino, piccolino. Ce lo portiamo direttamente. Ops, è caduta in acqua. Guardate che bei colori questo barbetto. Piccolino. Boccuccia. Ciao, ciao, ciao. Voglio andare a casa. Ops. Continuiamo, continuiamo la giornata. Un altro bel cavetano è arrivato a Guadino. E noi lo lasciamo andare. Ciao, ciao. Wops. Ciao. Oggi domenica mi sto davvero divertendo. Un altro bel cavetano che ritorna nel suo abito. Via. Guardate, guardate. Eccolo lì. Via. Ancora un altro cavetano. Bello. Proprio bello. Se non smette di piovere, andiamo a casa. Via. Ciao, ciao. Ho un cavetano un po' più di taglia. Un bel pesciolino. Voilà. Bene. Lasciamo andare a casa sua. Via. E si continua con altri cavetano. Oggi solo questi mangiano. Meglio questi che niente. Cannabano spacger다. Oh, come va. Ah,, è Unbelievable. Non mi pare. E se si prima Давай. Qui ci preoccupa. E abbiamo sembrato, Come uno stupi a casa sua, Come uno che ora fa per coperà. Come uno chίかったi. Come uno che se vuole. Come uno che si può fare продукare. Come uno che spezza. Grazie a tutti.